In questa mini guida vedremo come compilare in Deas il quadro EO dove dovranno essere inserite azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali proponendo differenti esempi. Ricordiamo che i campi obbligatori da compilare sono evidenziati in grassetto e varieranno a seconda della tipologia scelta nel quadro. Vi sono quattro tipi di elementi inseribili. Titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto, ad esempio azioni delle poste italiane. Nella descrizione andremo ad indicare azioni poste italiane spa e il relativo deposito titoli. Possiamo eventualmente indicare la quantità delle azioni, mentre dobbiamo obbligatoriamente inserire il codice titolo o ISIN e il codice fiscale della società, in questo caso delle poste italiane. Il diritto, il tipo di documento che allegheremo alla dichiarazione con immissione della data a cui fa riferimento, il valore e la quota trasferita. Titoli non compresi nell'attivo ereditario. Nella dimostrazione corrente inseriremo BTP Italia con scadenza 2023 con relativo codice ISIN e deposito titoli, il valore e la quota trasferita. In quanto titoli di stato saranno totalmente esenti da imposta di successione. Il terzo tipo preso in considerazione rappresenta un fondo comune di investimento. Nel campo descrizione inseriremo quindi il nome e leasing del fondo di investimento e il relativo deposito titoli. La quantità non è obbligatoria, mentre sarà necessario compilare il tipo di diritto e documento da allegare alla dichiarazione con relativa data, il valore e la quota trasferita. In questo caso è bene verificare se nel fondo sono compresi titoli di stato, pertanto la quota esente potrà essere inserita direttamente nell'omonimo campo, oppure tramite la calcolatrice integrata nel campo valore. In ultimo, se necessitiamo di inserire titoli non quotati in borsa, nel nostro esempio la quota di una società SRL, oltre alla descrizione, dovremo inserire il codice fiscale della società e la data del bilancio che andremo ad allegare alla successione. il valore e la quota trasferita. Grazie. Grazie. Grazie.